La crisi è anche questo, ladri di frutta e verdura tra le coltivazioni. L'ultimo episodio nella marca a Sant'Andrà del Povegliano tra i frutteti della famiglia Tonon, per un fenomeno che in altre province, ad esempio nel Veronese, ha raggiunto proporzioni tali da imporre i vigilantes sui campi. Si ruba di tutto a seconda della stagione e della località. Pesche al bigocca d'estate, pere, mele d'autunno, ma anche radicchio a chioggia ed intorni, fino ad arrivare alle verdure più umili, come sedano, cicoria e porri, addirittura negli orti di casa. In genere, e soprattutto per i frutteti, i ladri agiscono di notte come tra questi meli. Ogni annata, purtroppo, questo filare qua è destinato alla ruberia, non c'è niente da fare. Sconsolato Giuseppe Tonon perché, oltre al furto, ci sono anche i danni. Si arrampicano su per le rame, spaccano i traggi, il casino. Già, perché il furto è solo fino a una certa altezza, come si può notare. Si salvano le mele più alte, ma solo perché irraggiungibili. E i ladri sono anche selezionatori, come si vede. Le mele più piccole, quelle che cadono ancora a cerbe, rimangono a terra e non potranno comunque essere riutilizzate. Per questo, secondo il proprietario, la crisi c'entra fino a un certo punto. Non lo so, perché alle volte si dice che è dovuto alla crisi, però non credo che sia la crisi, perché ogni anno, mamma mia, ogni anno è così. Come nel caso della signora ladri in pieno giorno e in bicicletta. Cosa si può dire? Lei mi ha chiesto scusa, ma rubando per la scusa. Alla fine comunque di mele ne spariscono. Tre, quattro quintali di mele, non è che sia... Ma se uno viene da lei e le chiede un po' di mele... Mamma mia, siamo dentro la strada, quando passa gente che ha bisogno, educatamente mi chiedono e gli diamo un po' di mele, ma scherziamo. Quindi è meglio chiedere che andare a rubare. Per l'amor di Dio è meglio sempre chiedere. Guai, non va nessuno a casa senza niente a casa mia.